Bentornati, allora qualche tempo fa avevo fatto non uno ma ben due video sul rapporto quasi sempre fallimentare dei compositori di musica colta, di musica classica col cinema e ne avevo spiegato delle ragioni e avevo anche fatto una serie di esempi che includevano compositori di primissima fascia come Stravinsky, Ravel, Villa Lobos e molti altri oggi facciamo un qualcosa che gli assomiglia però visto da un'altra ottica, da un altro punto di vista ovvero sia il cercare di capire come mai le musiche da film, e parlo di quelle famosissime attualmente trovano difficilmente spazio nelle sali da concerto nonostante il cinema sia un business molto interessante, oggi probabilmente meno di qualche anno fa però i blockbuster ci sono sempre, i fenomeni cinematografici ci sono sempre quindi qualunque fenomeno che attiri un numero di persone importante è un fenomeno che economicamente ha un ritorno e quindi oggi le orchestre cosa fanno? Spesso e volentieri fanno dei concerti interi dedicati alla musica del film le musica di Morricone, le musica di Williams, di Zimmer oppure un'altra cosa che oggi le orchestre fanno è proiettano un film, poniamo ET e la colonna sonora la suonano al vivo, che è una cosa tra l'altro molto difficile a punto di vista tecnico e molto impegnativo insomma, però ormai è una cosa che vedo fare sempre più spesso e che fa combaciare i due mondi ma sicuramente sarà molto difficile che andremo al concerto della fenomenica della scala e vedremo il programma di questa sera, Beethoven, Brahms, Morricone perché questa cosa non succede? eppure parliamo di compositori famosissimi e di pezzi di musica ancora più famosi dei loro compositori perché quante persone conoscono una musica ma non sanno chi l'ha scritta? quindi sulla fama di queste musiche non c'è assolutamente il condubbio e quindi perché queste musiche fondamentalmente non entrano in pianta più o meno stabile nella programmazione? delle orchestre sinfoniche e delle sale da concerto perché in realtà in certi casi la cosa succede mi viene in mente ad esempio alle musiche che Prokofiev aveva scritto per due film che erano Alexander Nevsky e Ivan il Terribile che sono abbastanza stabilmente nella programmazione delle sale da concerto sono iniettati dei pezzi da concerto ancora più importanti di quanto non fossero del colonne sonore tra l'altro questa è carina perché entrambi questi film erano diretti da Sergei Eisenstein e chi è amante della cultura trash si ricorda di quel regista di Fantozzi che era Sergei Einstein e della famosa corizzata Potionkin che era diventata corizzata Cotionkin avevano fatto così evidentemente avevano cambiato il nome del regista e del film per evitare qualunque tipo di problema però insomma il riferimento ovviamente era più che palese e quindi la domanda che facciamo oggi è perché Alexander Nevsky di Prokofiev è una composizione nata per una corona sonora e ha trovato un suo spazio all'interno delle sale del concerto e Star Wars no! E ora potresti dire ma come? John Williams fa tantissimi concerti certamente fa tantissimi concerti di musica sue dirette da lui completamente su di lui ma è rarissimo che troverete in un programma di sala musiche di appunto ripeto Beethoven, Brahms e Williams potrà succedere ma sarà raro vediamo quindi quali sono le ragioni che tengono lontane le musiche da film dalle sale da concerto innanzitutto un certo snobismo e una certa scarsa apertura mentale da parte dei direttori artistici mediamente dall'ambiente accademico perché comunque per un certo tipo di mentalità molto presente nella musica classica la musica da film fondamentalmente è un genere minore e non è un caso che il compositore di musica da film sia una professionalità molto specifica che richiede delle caratteristiche ben precise e non è detto che solo perché uno sia un bravo compositore poi debba essere per forza anche un bravo compositore di colonne sonore a riprovo di questo ripeto andatevi a vedere i due video che ho fatto su il rapporto finito male tra compositori colti e cinema e se vi ricordate anche parlando di Rota avevo detto che lui comunque benché fosse un compositore famosissimo in grande successo e di indiscusso talento era un po' snobbato dall'ambiente accademico perché? Perché faceva film qual è la dinamica che c'è dietro? ancora oggi ma non ve lo dico neanche ai tempi che furono i soldi che si facevano facendo il cinema erano cento volte quelle che si facevano scrivendo un pezzo di musica di musica sinfonica diciamo così il rapporto è veramente uno a cento oggi si è sicuramente diminuito ma è ancora molto più molto più conveniente come dire scrivere delle musiche per un film invece che scrivere un pezzo sinfonico e quindi tutto sommato siccome Pecunia non Olet spesso si vede nei compositori che fanno film una scappatella dalla retta via perché come detto nessun compositore di musica assoluta vedrà i soldi che vedrà un compositore di musica applicata in un compositore di musica da film forse Arvo Part forse Naiman al netto delle sue colonne sonore però sono comunque rarissime eccezioni nella media è una gara che non c'è quindi la scappatella diciamo così è tollerata se è fatta una volta ogni tanto quando poi però un compositore diventa specifico autore di colonne sonore o di musica applicata in generale ripeto dall'ambiente accademico viene visto con un po' di di sospetto e quindi le sue musiche avranno sempre più difficoltà a entrare nelle sali da concerto un esempio su tutti pensate alla musica assoluta di Morricone cioè Morricone oltre alle 500 passa a colonne sonore tra l'altro se non li avete visti vi invito ad andare a vedere i miei sette video sugli anni folli di Ennio Morricone Morricone ha fatto 500 colonne sonore oltre a questo ha scritto tantissima musica da concerto però quante volte ascoltate questa musica nelle sale da concerto? pochissime la seconda ragione per cui la musica da film trova poco spazio nelle sale da concerto è la sua stessa conformazione e la sua stessa concezione tenete presente che una volta e quindi questo spiegherebbe perché magari la musica di Prokofiev per un film è eseguita e altre no al netto del valore di Prokofiev che per amore di Dio tra l'altro è uno dei miei compositori preferiti però c'è una dinamica diversa perché diverso è il quello che si richiede alla musica di un film oggi rispetto a 70-80 anni fa ai tempi la musica era una musica che più che altro raccontava la storia più che l'azione l'altro giorno mi sono rivisto 10 piccoli indiani quello del 45 di René Cler che non vedevo boh da quando ero ragazzo mi è venuta a voglia me lo sono rivisto e a parte ma certe cose ovviamente dei limiti tecnici degli artifici insomma che avevano fatto con i mezzi del tempo che oggi risultano veramente inguardabili e addirittura degli errori addirittura la colonna sonora scritta tra l'altro da Castanova Tedesco un compositore immenso seguiva esattamente questa cosa che vi sto dicendo cioè era una musica descrittiva così dell'atmosfera generale della storia ma non era una musica che andasse a cercare come spesso richiede alla musica di oggi quell'inquadratura quello sguardo quello stretto quel sync oggi la musica è veramente incollata o dovrebbe essere incollata all'immagine cosa vuol dire che se poi la togliamo da quell'immagine è chiaro che ascoltiamo un qualcosa che magari con l'ascolto basta ci può sembrare incompleto perché magari in quel punto lì c'è che so una lunga nota tenuta perché è su uno sguardo fisso però quella lunga nota tenuta su quell'immagine ha la sua funzione e ci va benissimo se l'ascoltiamo da sola possiamo non capirla quella nota quella nota da sola e quindi alla fin fine più la musica è sincronizzata all'immagine e meno è facile la sua funzione all'ascolto puro quindi andrebbe adattata magari facendo dei tagli magari facendo dei aggiustamenti e chi lo fa questa cosa può farlo il compositore se ne ha tempo voglia e si ritiene che le eseguono a qualche parte se no dovrebbe farlo una terza persona però col consenso ovviamente degli eventi di diritto perché tutte le musiche da film sono tutte sotto diritti e quindi hanno gli editori a cui bisogna che le autorizzazioni insomma diventa complesso in più tenuta presente terza ragione che le partiture di musica da film sono abbastanza difficili da trovare sì ci sono due o tre editori che ne pubblicano e da lì si possono reperire però sono comunque pochissime in confronto alle migliaia di film che sono usciti siamo parlando di qualche partitura si trova ma insomma è difficile è difficile reperire queste partiture che in più come detto nel punto precedente andrebbero adattate in più aggiungete un'altra cosa che sempre più spesso lo faccio anch'io moltissime volte nelle mie colonne sonore pur essendo una colonne sonora orchestrale o fatto con strumenti acustici magari ha al proprio interno una traccia elettronica una traccia quindi lavorata su sintetizzatore o su qualunque altro output digitale che viene giunta alla parte diciamo orchestrale e quella cosa lì se la togliamo il pezzo cambia il pezzo cambia può diventare un'altra cosa può perdere il senso può perdere il significato può perdere la struttura può perdere la forma insomma diventa un'altra cosa e mandarla in come dire dal vivo è tecnicamente possibile ma è complesso ora voi mi potreste dire che già dagli anni che furono da 50-60 anni fa anche qualcosa in più c'erano le musiche su nastro magnetico in tutta la fase della sperimentazione dopo Darmstadt fino agli anni 70-80 c'è sempre stata ci sono state tante esecuzioni di musica magari per uno strumento e nastro magnetico quindi qualcosa di pre-registrato però questa cosa se è più facile farla sicuramente con nastro magnetico e uno o due strumenti piuttosto che farla con un'orchestra intera perché bisognerebbe suonare col click la musica andrebbe sincronizzata insomma è molto più è molto più complessa proprio dal punto di vista dal punto di vista tecnico e poi ripeto il nastro magnetico era pensato e strutturato per l'esecuzione generalmente di pochi strumenti insomma con tutta un'orchestra diventa veramente veramente complicato non irrealizzabile ma molto complesso e molto costoso dal punto di vista tecnico un'altra ragione la quarta per cui molte volte sentiamo una musica di un tema e diciamo madonna che bello questo tema perché non lo esegui la fia armonica della scala no? quante volte ce lo siamo chiesti è perché l'esposizione di un pezzo di una colonna sonora ha una forma diversa rispetto all'esecuzione di quello stesso tema in chiave sinfonica cioè nella colonna sonora il tema dovrebbe risultare forte e chiaro senza eccessivi fronzoli in un pezzo sinfonico di musica colta diciamo così invece pur partendo allo stesso tema ci dovrebbe essere tutta una struttura sotto molto più complessa a punto di vista armonico controcanti del contrapunto insomma tutta una serie di artifici musicali che rendono un pezzo un pezzo interessante dal punto di vista sinfonico perché ripeto nel momento in cui togliamo quel tema dalla sua funzione che è quella di commentare quella scena ed è solo per ascoltarlo come dire l'ascoltatore esigente vuole sentire anche un certo sviluppo vuole sentire una certa elaborazione di quel tema non gli basta sentire il tema e diceva ah bello sto tema non gli interessa più insomma pensate non so a quello che ha fatto Brahms partendo da da un tema e facendo su delle variazioni erano delle variazioni che poi avevano solo un lontano riferimento un lontano riferimento al al tema iniziale no però c'era un po' come il toro di Picasso no che partendo da un toro l'aveva stilizzato al massimo ed ecco perché tra i compositori del film se vogliamo uno di quelli più eseguiti è John Williams perché lui ha questo genere di scrittura una scrittura comunque molto simile molto affine alla musica alla musica sinfonica proprio per come questi pezzi sono pensati basta vedere una partitura di John Williams si vede insomma una struttura densa proprio da orchestra sinfonica non c'è solo l'esposizione del tema ah che bello sto tema e basta insomma c'è un'elaborazione c'è uno sviluppo pensiamo a colonne sonore come E.T che sono veramente un manuale di come un tema andrebbe trattato nel corso di un'intera colonna sonora eppure nonostante questo John Williams non eseguito da John Williams è relativamente poco eseguito nelle serie da concerto ultimo problema che non è un problema da poco è che spesso e volentieri le orchestre previste per l'esecuzione di una colonna sonora sono orchestre molto grandi con gli organici molto importanti spesso ben più grandi ben superiori come numero evidentemente a anche una grande orchestra sinfonica e quindi questo comporta dei costi importanti in più per l'organizzatore e per cui insomma o già l'orchestra sta facendo qualcosa con un organico sterminato e allora magari il dettore artistico vuole aggiungere questo oppure capite che se solo per quel pezzo di esecuzione bisogna aggiungere magari altri 10 20 o più strumentisti il dettore artistico a meno che proprio non sia follemente innamorato di quel pezzo e lo voglia assolutamente eseguire in quel concerto si troverà a fare dei conti economici e magari con qualcuno che gli dirà ma sta roba qui tu per fare questo pezzo costi x migliaia di euro in più e quindi insomma come capite i problemi sono tanti allora intanto ringrazio Massimiliano per l'analizzazione di questo video scrivete nei commenti cosa ne pensate voi del rapporto non tra la musica colta e il cinema per quello per quello scrivetelo sotto i due video che ho fatto di cui vi ho parlato all'inizio ma raccontatemi invece del rapporto della musica da film nelle sale da concerto nelle sale normalmente adibite all'esecuzione di musica classica diciamo sinfonica lasciate un like se il video vi è piaciuto e se lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video non mancate grazie a tutti